venerdì 19 agosto va in scena la compagnia dialettale urbinate sono qui con il presidente buonasera buonasera allora che cosa si porta in scena in questa estate 2022 peso rubino urbin peser una cosina simpatica dico io il problema era ho telefonato un giorno a paolo capelloni che è l'autore di questa commedia dicendo guarda fammi scrivimi qualche cosa paolo su sulla rivalità tra pesaro urbino in realtà lui ho sentito un silenzio profondo ho detto oddio cosa ho detto di qualcosa di male no ma è perché noi non abbiamo nessuna rivalità con urbino c'è ormai se l'abbiamo con fano questo è risamputo ma è una leggenda metropolitana è lo stesso comunque è qui la commedia è lì e parte in dialetto urbinate e parte in dialetto pesarese le risate sono assicurate credo di sì benissimo finché l'abbiamo già fatta due o tre volte e ha riscosso un certo successo allora lascio a lei il microfono di fano tv per invitare gli amici a casa va bene chi vuol venire chi ha la possibilità di venire venga noi siamo qua non ci muoviamo non ci muoviamo